Si svolgerà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno il diciassettesimo stage di diritto dell'Unione Europea Andrea Caffiero. Durante la tre giorni si parlerà delle novità normative giurisdizionali di diritto dell'Unione Europea, fondi europei, diritto bancario e tanti altri temi importanti. Siamo alla diciassettesima edizione dello stage Caffiero sul diritto dell'Unione Europea che quest'anno toccherà diverse tematiche, da quelle a cui siamo abituati, della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, a quelle delle nuove procedure in ansia della Corte Costituzionale. Particolare attenzione la presteremo, oltre che ai fondi europei, quest'anno a nuova normativa sul diritto dell'autore e in particolare le ultime unità che ci sono state in materia di banche, perché sapete che di poche settimane orsono, la sentenza Tercas del Tribunale di primo grado che in qualche modo ha salvato la procedura di recupero che c'è stata di alcune banche. Quindi con l'intervento del Fondo Interbancario si temeva che fosse un aiuto di Stato, la Commissione era intervenuta, lo aveva dichiarato aiuto di Stato, invece il Tribunale lo ha in qualche modo sdoganato. Quindi è un argomento di scottante attualità, tanto è vero che è prevista la partecipazione del Presidente dell'ABI. Domenica 9 chiuderemo con una tavola rotonda a Villa Matarazzo. Il resto del convegno invece si svolge allo del mare Luna in San Marco di Castellabate. È interessante per tutti, ma è interessante in particolare per gli avvocati perché si conseguono 20 crediti formativi.